e questa mattina l'angolo per il consiglio per una lettura di qualità lo riserviamo a valerio calzolaio buongiorno valerio e grazie per essere nuovamente intervenuto a questa edicola del trap allora che cosa possiamo consigliare ai nostri ascoltatori ai nostri amici per questa settimana allora è uscito in quest'ultima settimana il 6 giugno credo il nuovo romanzo di antonio manzini si chiama help e l'editore è sellerio è il dodicesimo romanzo della serie del vice questore rocco schiavone che ha avuto già anche cinque stagioni televisive e il primo romanzo uscì circa dieci anni fa nel primo romanzo veniva consigliato di consumare il verdicchio di materica per restare nelle marche che si chiamava pista nera questo è ambientato pochi mesi dopo l'altro in realtà manzini sta raccontando lo stesso periodo che è un periodo fra il 2013 e il 2014 l'inizio del 2013 e adesso la fine del 2014 in cui accadono tante cose ad Aosta perché il suo vice questore il suo protagonista è stato lì trasferito per dissenzi e anche comportamenti scorretti sul piano diciamo gerarchico senti Valerio questo è un libro quindi un libro giallo che è di quel tipo di quel genere che ti ha passione sì allora la serie è un giallo particolare cioè nel senso che lui non è una persona integerri ma anche se è un bravissimo investigatore i suoi amici del cuore sono tre fuori legge tre delinquenti ladri sicuramente non 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 con comportamenti legali lui stesso in passato è andato spesso ai confini del rispetto della legge anche se moralmente noi non lo vediamo in modo negativo perché è una persona burbera ma sincera autentica e un bravissimo investigatore sicuramente non è un eroe positivo a tutto tondo il suo fascino nasce in parte dal fatto che ha pregi e difetti un po come tutti noi i pregi dal punto di vista dell'investigazione sono però alti in questo caso deve sbrogliare una matassa complicata che riguarda due cose da una parte una sua ispettrice raccoglie un colloquio con una donna che è stata maltrattata ha la faccia ammerchiata e però non vuole fare la denuncia e lui ecco vediamo i confini della legge decide di chiamare il marito per dirgli di smetterla siccome quello non se la dà per vinta gli dà appuntamento e jemena gli dà due pugni e modo tale che si ricordi ovviamente non in quanto vice questore in quanto uomo pubblico ma in quanto maschio che non sopporta le violenze sulle donne però dopo poche ore questa stesso maltrattato viene ucciso perché in realtà era un delinquente in realtà si occupava di traffici illeciti e quindi viene ucciso dentro la sua dinamica solo che lui aveva menato anche se le telecamere non l'hanno ripreso e quindi è una prima matassa da sbrogliare la seconda riguarda il fatto che siamo nei tempi 2014 di un forte movimento ambientalista ovviamente questo più legato a oggi a dei giovani ribelli che sono più presenti nel 2023 nel 2014 e ci sono degli atti di ecoterrorismo che sono un po esacerati per quel movimento che faceva invece delle azioni dimostrative diverse lui capisce che è una copertura ci sono due diciamo atti gravi l'incendio di un tassidermista e quindi di un magazzino e un omicidio di un ricco industriale che sono in realtà coperture che vengono attribuite da false rivendicazioni a questo movimento ma con il quale invece c'entrano interessi familiari quindi è una storia noir ma anche di attualità ma anche particolare non anticipiamo altro senti allora ricordiamoci ricordiamo il titolo e autore è antonio manzini help uscito all'inizio di giugno 2023 dodicesimo romanzo della serie vedetelo anche per televisione perché è molto divertente bene prima di ringraziarti ti voglio dire solo una cosa tu sei stato anche sottosegretario sei di macerata il verdicchio di materialità va valorizzato visto che è citato io 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 scrivo recensioni anzi se volete una volta Giancarlo mi dà la mia mail e io mi dite che ve le devo mandare le mando a 1500 amici personali e culturali ebbene metto sempre in fondo alle recensioni che cosa fanno i personaggi in questo caso se i personaggi bevono un certo tipo di vino o leggono un certo tipo di romanzi bene grazie grazie a valerio grazie appuntamento alla prossima settimana